Antonio Conte, allenatore dell'Inter, non può di certo sorridere a poche ore dalla gara contro il Parma. Il tecnico salentino non potrà avere a disposizione Romelu Lukaku, visto che il Belga si è procurato un risentimento all'adduttore sinistro nella sfida di martedì contro lo Shakhtar Donetsk. Un problema evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata di giovedì. Non giocherà sabato pomeriggio contro i Ducali, ma l'attaccante è anche in forte dubbio per la trasferta di martedì a Valdebebas contro il Real Madrid. Le condizioni del gigante saranno valutate giorno dopo giorno e l'obiettivo, attualmente più realistico, è di averlo a disposizione per Atalanta-Inter dell'8 novembre, ore 15. Poi ci sarà la sosta per le nazionali, dove il bomber interista sarà impegnato nell'amichevole contro la Svizzera e nelle partite di Nations League contro Inghilterra e Danimarca. In casa Juventus non c'è tempo di pensare alla sconfitta patita nel Champions League contro il Barcellona per 2-0 mercoledì sera. I bianconeri sono subito tornati a lavorare alla continenza per preparare il prossimo impegno di domenica pomeriggio alle ore 15, dove i campioni d'Italia saranno di scena a Cesena nella sfida in trasferta contro lo Spezia. La squadra si è ritrovata nel proprio centro sportivo con una buona notizia, cioè il rientro in gruppo di Giorgio Chiellini, che forse potrebbe essere convocato per la gara contro i Liguri. La Formula 1 pensa al campionato 2021 con la speranza di poter tornare a una sorta di normalità, almeno per quanto riguarda il calendario. L'obiettivo è tornare a una Formula 1 globale, con i promoter paganti e le gare aperte al pubblico. La bozza presentata ai team prevede 23 gran premi, uno in più del piano inizialmente previsto per il Mondiale 2020. L'apertura sarebbe in Australia il 21 marzo, l'esordio europeo avverrebbe a maggio, per poi chiudere il campionato ad Abu Dhabi. Nei prossimi giorni verrà svelato il futuro di Andrea Dovizioso. Al momento la Yamaha sembra essere la destinazione più probabile per il pilota. Secondo quanto riportato da MotorsportTotal.com, il tre volte vice campione MotoGP potrebbe tornare alla casa di Iwata dopo l'esperienza con il team satellite Tech 3 nel 2012 e sostituire Jorge Lorenzo come collaudatore. Anche la Honda avrebbe potuto essere una possibilità se non fosse per il fatto che Dovizioso vuole coltivare la sua passione off-road e il rischio di infortuni non sarebbe ben gradito alla società giapponese. L'Aprilia invece non è riuscita a convincere il pilota della Ducati nonostante le continue dimostrazioni di stima. Comunque, secondo il manager Battistella, la decisione su quale costruttore assumerà il Dovi come collaudatore per il 2021 arriverà a breve.